La prima azione degna di nota accade al 34esimo con Intagliata che involatosi sull'auto sinistro dopo aver scartato un uomo, serve Costanzo, il quale da pochi passi scarica alto sulla traversa. Immediata la reazione dei Peloritani un minuto dopo con la sciabolata di Cannavò, ben servito da Camarda, da fuori aria, che trova comunque la pronta risposta dell'estremo difensore Tarantino. Al 49esimo da segnalare una girata alta di Vaccaro su cross di Intagliata. All'ottantesimo la più ghiotta occasione del Città di Messina su punizione di Capitan Camarda, sfiorata da Tarantino, che crea non poca apprezzione in aree di rigore, con la difesa rosso-blu che fa buona guardia. All'ottantesimo su una millimetrica punizione ancora di Intagliata, incornata di Costanzo, ma bravo il portiere Paterniti a deviare in angolo. Bene, siamo nel dopo partita dall'Angelino Nobile di Lentini tra Real Avola e Città di Messina. Ricordiamo il risultato 0-0. Abbiamo ai nostri microfoni il trainer Saro Foti, velleggiatissimo ed esperiente allenatore del Città di Messina. Buongiorno Ministro, innanzitutto partiamo dal risultato. Soddisfatto del risultato e della prestazione dei suoi? O credeva di fare qualcosina in più oggi? Io credo che ogni squadra, ogni allenatore pensa sempre di ottenere o cerca di ottenere il massimo, però dico che questo è un punto prezioso perché è una squadra che io rispetto tantissimo per l'organico che si ritrova, per i giocatori che ha e quindi sapevo che non era facile. In questo campo, a casa dell'Avola, io penso che sarà difficile per tutti fare punti. Lo ritengo un risultato positivo perché quello di quest'anno, a mio giudizio, è un campionato forse unico nella storia dell'eccellenza. Ci sono, a mio parere, 8-10 squadre, tutte forti, tutte equilibrate, tutte con giocatori importanti e quindi è un campionato che secondo me si giocherà fino alla fine sul filo di lana. Non sarà facile per nessuno, nessuno spiccherà il volo e nel contesto di un campionato così equilibrato fare un punto a casa dell'Avola, a mio parere, è certamente un risultato positivo. Ha impressionato la prova del Real Avola, davvero una prestazione sopra le righe. Forse era stato un attimino sopravvalutato questo Città di Messina ma comunque un risultato sicuramente molto positivo da parte dei suoi? Ma io non direi che il Città di Messina è stato sopravvalutato. Darei merito ai ragazzi nostri di aver fatto una partita all'altezza della situazione. Ricordiamoci che il Città di Messina è stato costruito per vincere il campionato e il fatto che noi abbiamo combattuto con loro ad armi pari ci fa ben sperare per il nostro obiettivo che è quello di fare bene. Per il resto un applauso a tutti i ragazzi perché oggi si sono sacrificati in maniera vertiginosa. Diciamo che difficilmente noi da due anni e mezzo a questa parte sbagliamo l'appuntamento importante perché riusciamo a prendere bene la concentrazione e a dare il massimo. Per cui io devo solo ringraziare questi ragazzi che si sono impegnati oltre il limite della forza e poi anche oggi abbiamo avuto la fortuna di avere un ottimo pubblico che ci ha incitato finalmente dall'inizio alla fine e questo qui per noi è importante perché loro rappresentano un punto importante per noi. Bene ai nostri microfoni il centrocampista del Città di Messina Roberto Assenzio. Assenzio io ti ho giudicato il migliore tra i 22, davvero ottima la tua prestazione. A me fa piacere che una tv siracusana mi scelga come migliore in campo. Siracusana? Siracusana, allora ho detto bene. Abbiamo fatto una bella partita in entrambe le squadre, è stata tosta, qualche occasione magari sia da una parte che dall'altra. Poche emozioni però una gran bella partita. Speriamo che sia a noi di fare bene ma anche per l'Avola. Forse non vi aspettavate un atteggiamento così arraimbante del Re l'Avola? Ho visto che avete iniziato il match in maniera un po' timorosa, poi un attimino sulla finale del primo tempo siete usciti un po' fuori. No, noi sapevamo che questa squadra era una buona squadra, soprattutto i giocatori che aveva. Infatti stavamo attenti nei primi 15 minuti a studiare bene l'avversario perché giustamente siamo due nuove squadre e ci siamo studiate un po' e poi siamo usciti fuori. Bene, siamo con Christian Rick, difensore del Real Avalid, autentico leader oggi della difesa della compagina R2-6 in mancanza di Marziano. Rick, innanzitutto come ti sei trovato con un Niemi? Vedo molto bene. No, 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 alla grande. Diciamo che chi ha sostituito gli assenti ha fatto tutto il possibile e poi parliamo comunque di gente abituata, quindi ad altre categorie che si adatta bene in qualsiasi ruolo. Soprattutto Daniele oggi ha fatto una grande partita in quel ruolo che teoricamente non è il suo. Christian nel secondo tempo ci hai fatto un attimino un po' tremare, come sei riuscito ad arpionare quel pallone sulle linee di testa? No, è niente, fa parte del nostro mestiere, noi ce la mettiamo tutta per non prendere gol e questa volta siamo stati bravi e a volte anche fortunati.